Dopo un anno di Campagna Amica si sono moltiplicati i punti vendita in territorio pescarese. Coldiretti Abruzzo ha festeggiato questo anniversario con l'inaugurazione di un nuovo punto vendita Bottega di Campagna Amica in via Caravaggio. Punti vendita che esaltano la filosofia dei prodotti a chilometro zero, ciascuno con una propria caratterizzazione, come spiega Mauro del Ponte, uno dei coordinatori del progetto Campagna Amica. Siamo alla sesta e ogni bottega ha un settore prevalente. Partiamo dall'ortofrutta ai prodotti di gastronomia e qua siamo arrivati alla carne e formaggi. 34 anni, di vicoli in provincia di Pescara, Cristian Savini è il titolare della nuova bottega di via Caravaggio. Speriamo che i nostri prodotti verranno apprezzati, noi ci impegniamo al massimo. La mia azienda è impegnata ormai da tanti anni nella filiera del chilometro zero. Questa era una vetrina che desideravamo da tanto tempo. E' una bottega che propone formaggi molto apprezzati e anche carne di grande qualità. Sì, è la carne dei vitelli di razza Frisona allevati nella nostra azienda, nascono nella nostra azienda e crescono lì. Punto vendita Campagna Amica, spiega il direttore di Codiretti Abruzzo Alberto Bertinelli, è un trionfo del Made in Italy. Un bel segnale anche per il nostro mondo agricolo che riesce in questo modo a valorizzare le proprie produzioni. Ma io credo che sia anche un bel segnale, un ottimo segnale per il consumatore, per il cittadino che in questo tipo di realtà trova veramente il cibo italiano, trova il cibo del territorio, trova il cibo sano con una sicurezza alimentare che gli garantisce quello che oggi sta cercando e che è un grande patrimonio del nostro paese. Grazie a tutti.